buonasera amici sportivi dal torneo arcobaleno siamo qui a commentare questa partita di euro kappa tra l'SP sorge actea for president che trovo il risultato di 3 a 1 valida per le semifine andate andiamo a vedere le formazioni con l'SP sorge pensa bene tra i pali poi motta S e motta M andronaco poi trovato favazza e danilo motta il capitano actea for president con liotta tra i pali poi di Benedetto, Dagada, Garufi, Maisanier, Maisanieff e poi Amodeo e campi in panchina e ora vediamo l'ingresso in campo di questa partita vediamo partita che vede due ottime squadre l'SP sorge actea for president che hanno spesso un ottimo calcio in questo torneo ad arbitrare quest'oggi di santo mazzullo ecco a sinistra vediamo gli actea in maglia rossa e l'SP sorge per l'occasione si è messa la casacca quanto i colori delle squadre sono simili vediamo ora i volti di questa di questa formazione l'SP sorge sono la famiglia motta a concludere la fila poi santo mazzullo eccolo qui e marco d'agata con volto rabbioso e adesso andiamo a vedere gli highlights di questa partita con unica emozione al 14esimo del primo tempo con questo gol di Amodeo ottimo colpo di testa andremo a rivedere solo questa è stata l'azione che ha fatto brillare gli animi nel primo tempo lo rivediamo passiamo subito al secondo tempo dopo l'1-0 del primo con questa rimessa laterale che va a prendere poi il gol di De Benedetti al 17esimo riesce a toccare la palla quel tanto che basta per beffare il portiere l'SP sorge andiamo al 15esimo con Dalino Motta che si posiziona e trova il portiere dell'Actea pronto e qui siamo al 21esimo con D'Agata che insacca il gol che vale il 3-0 quasi un colpo splendido assist da parte del compagno e vediamo un po' gli SP sorge che provano a rimettere il risultato in condizioni almeno buone con Danilo Motta al 22esimo che riesce a concludere dopo un po' una carambola in difesa degli Actea la disattenzione in questo caso della difesa delle maglie rosse Danilo Motta viene dal centrocampo, butta dentro con rabbia e vediamo al 23esimo che arriva questa paratona del portiere degli Actea che si distende, ottimi interventi da parte sua quest'oggi calcio d'angolo per l'SP sorge ecco all'incrocio dei pali questo incredibile tiro prende il palo interno si provava a tirare col tiro a giro non è andata bene per l'SP sorge in questo caso calcio d'angolo mentre dalla parte opposta passa un po' da tutti quanti ancora Danilo Motta che prova 1, 2, 3 volte a tirare prende in piano, in pieno la traversa guardate ottimo giocatore deviata comunque questa palla e finisce così 1-3 per gli Actea che possono stare abbastanza tranquilli per quanto riguarda il ritorno e ci vediamo alla prossima Buonasera dal tornare Copaleno dopo la partita di semifinale di Coppa in quanto riguarda l'Euro Cup tra l'SP sorge e l'Actea e la presidenza siamo qui con il signor Pensa Bene ottima prestazione da parte sua anche se il risultato il 3-1 scolorevo un po' pesante è stato questa partita loro hanno vinto giustamente perché non è stato bene e quindi abbiamo sbagliato qualcosina forse sopra quindi possiamo riminare qualcosa per toglie per toglie per toglie per toglie non lo fai un gollo con dedica? abbiamo vinto questa partita e la videocamera? no? no? vuole fare un balletto? un balletto? qualcosa? che avuto che lo fa? agli scorsi facevano eh? vabbè ma lo fai per te amico o per di mia? ma qualche volta anche Reggio magari sulla sinistra o purtroppo una squadra è fatta che sei dei miglioratori siete dei migliori connessivi ma ogni volta fa la differenza ma la differenza la fai anche non ci sono dei passaggi ma sono ci sono gli altri che fai giustamente no? e quindi se non fai questo e poi non sei in giornata e quindi sbagli con te e quindi sbagli con te il fraseggio è importantissimo soprattutto perché non sbagli con questi da un po' 7 e 7 e non lo so più in più va bene ringraziamo il signor Prenzapena questo è in premio un buono uno dei nostri sponsor che lei dopo lo spiegherà che cos'è dunque la ringraziamo dal Tornare al Combo è tutto alla prossima è un buono un buono Grazie a tutti.